Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia più amata del Grande Fratello, stanno vivendo un incantevole weekend d'amore a Taormina. Tra paesaggi mozzafiato e delizie siciliane, i due sembrano più affiatati che mai. Ma c'è un dettaglio che ha catturato l'attenzione di tutti. Un pancino sospetto che ha fatto impazzire i fan. La voce di una possibile gravidanza ha cominciato a circolare da quando Amedeo Venza ha condiviso una foto di Giulia con un commento intrigante. Beh il pancino sospetto c'è. Ora bisogna capire se è frutto di una notte di passione o tanto benessere a tavola. Questa ipotesi sembra essere supportata dagli ultimi scatti e storie Instagram della Salemi, dove l'influencer cerca di nascondere la pancia con abiti larghi e pose strategiche. Giulia non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma, ma ha sempre detto che aspetterà il momento giusto. Ora, mentre i fan sognano un bebè per la coppia, lei mantiene il silenzio, alimentando ancora di più le speculazioni. Superare una crisi. La chiave del loro amore. Nel suo podcast Non lo faccio decimo moda, Giulia ha raccontato come lei e Pierpaolo hanno superato una profonda crisi, dovuta a gelosia e stress lavorativo. Mi reputo molto seria, ma l'eccessiva gelosia di Pierpaolo mi feriva e ci portava a scontri continui. Poi, con il lavoro, eravamo sempre nervosi e ce la prendevamo l'uno con l'altro. Ma abbiamo trovato il nostro equilibrio, ha spiegato la Salemi. Ora, più uniti che mai, Giulia e Pierpaolo sono pronti a vivere il loro amore senza limiti, e chissà, forse ad accogliere un nuovo membro nella loro famiglia. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.